Nella posizione prona, il paziente è disteso sull'addome. Posizionate i cuscini in modo da far stare comodo il paziente. Alcuni pazienti stanno più comodi con un piccolo cuscino sotto il basso ventre. Collocate un piccolo cuscino sotto la testa che va girata da un lato. I gomiti devono essere flessi con le mani ai lati della testa. Evitate che le dita dei piedi tocchino il letto, ponendo un cuscino sotto le gambe. Elevate the toes off the bed using a pillow under the shins. Is that pillow exactly how you want it? Yes. It's good. Ok. 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 Ok.